Oggi un incontro importante con Pietrino Foris, con il rappresentante del commissario della provincia per assumere alcuni impegni concreti che riguardano il nostro territorio. Come amministrazione comunale abbiamo proposto la realizzazione di una rotatoria all'ingresso di Santa Maria della Palma per rendere più sicura la viabilità del nostro territorio. Abbiamo chiesto la realizzazione di nuove strutture sportive nelle scuole che vengono gestite dalla provincia in particolare abbiamo parlato di quella dell'istituto artistico ma anche con un occhio di riguardo per gli altri istituti. Abbiamo discusso anche della possibilità di modificare la viabilità interna al parco regionale di Portoconte per l'accesso al geosituto di Capocaccia per renderlo sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale ma anche fruibile e sicuro per i visitatori. Quindi impegni concreti che abbiamo voluto prendere pubblicamente perché pensiamo che una collaborazione stretta fra amministrazione comunale e provincia sia utile per il nostro territorio. Pietrino Foris Il sindaco ha fatto un elenco molto puntuale di quelle che sono le esigenze e le criticità. Come provincia stiamo portando avanti un programma ben chiaro, la provincia che va dai comuni e non i comuni che vanno dalla provincia, quindi per noi è un segnale determinante per conoscere quelle che sono le esigenze. Oggi l'amministrazione e il signor sindaco ci hanno fatto un escursus di quelle che sono le priorità, ne teniamo assolutamente conto. Aggiungo alle cose dette da Mario che un'altra battaglia su cui non molliamo, intendiamo continuare affinché si ottenga il risultato finale e l'ultimo lotto dell'Alghero Sassari e per il quale abbiamo avuto un incontro importante a Roma. Ci sono ancora le questioni che devono essere sciolte, però contiamo nelle prossime settimane di avere una risposta finalmente definitiva per l'Alghero Sassari, fondamentale per la nostra economia e la nostra sicurezza. Grazie.